Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger numero 20, siamo già al 20 dicembre E ieri abbiamo fatto l'albero, oggi cominciamo a decorarlo Quindi voi, mi raccomando, indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi, va bene? Oggi ho scelto questa decorazione qua, fatta con delle perline, chiamiamole così, dai E farò un po' di trigger con questa qua appunto Quindi, come vedete, è bianca Perché noi dall'anno scorso l'albero ce l'abbiamo di colori bianco, argento e blu Ditemi voi di che colore avete l'albero quest'anno Dai nè, srotolo un po' e uso quella Grazie a tutti Grazie a tutti E' troppo bello giocarlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Basta così, dai Cucu Grazie a tutti Grazie a tutti Buonanotte Buonanotte E noi ci vediamo domani Quindi un bacione Buonanotte Buonanotte Buonanotte